8. Salti di comprensione Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian Giorgei Per l'io, tutto quello che è una condizione di squilibrio è qualche cosa che gli dà dei problemi perché non è sicuro di poterlo controllare. D'altra parte, se voi ci pensate, i più grandi salti di comprensione che l'individuo fa li fa sempre in condizioni di squilibrio interiore. Quando uno è tranquillo, ha il suo tran tran, la sua vita normale, pacifica, tutti i giorni uguali, il suo lavoro, casa, famiglia, televisione, libri, eccetera, non ci sono mai grosse comprensioni perché è tutto talmente statico che non c'è la possibilità di avere grossi cambiamenti. E quando invece c'è qualche cosa che viene a interrompere questo ciclo statico, ecco che lo squilibrio mette per un attimo in crisi l'io ed è facile allora a quel punto riuscire a trovare qualche cosa per modificare se stessi. La sofferenza è lo squilibrio più grosso che l'individuo affronta ed è per questo motivo che è nella sofferenza che è più facile comprendere. Grazie. 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 Grazie.